Non esserne così sicuro! Puoi farcela, Ben! Ma attento a non disturbare il Quetzalcoatl! Per come vanno le cose, non posso fare promesse! A quanto fuggi noi? Ah, la grange mi è spuggito. Che mi sta succedendo oggi? Dobbiamo solo raggiungerlo e dopo potrai fermarlo. Vuoi dire che dopo potrò combinare altri guai? Tu cerca di pensare a una strategia. XLR8 non ha funzionato. Forse mi servirebbe un partner. Mi trasformo in inferno e faccio gioco di squadra con Glitch. Come butta, Benjamin? Ti serve una spinta per acciuffare la grange? Logico! Non potete sfuggire alla grange! Il vostro bel carico è già nelle mie mani! Macchina in arrivo! Nonno, Ben ha di nuovo appiccato un fuoco! Però stavolta mi sono preparato! Nonnozione, via! Ma tutto bene! Avanti, spostati! Oh, certo! Sono tornato in panchina. Dobbiamo pensare a qualcosa. La grange ha preso la creatura e Mary Jo! Beh, ormai sono andati. Ogni volta che intervengo, mando tutto in fumo. Questa cosa mi sta facendo uscire di testa! Oh, io ho un'idea! Ragazzi, seguitemi nella vecchia carretta! Ah, guastatore 1-9! Clac, clac! Vi pungo sul radar! State seguendo la rotta sbagliata! Passo! Quei semini gli hanno dato alla testa! Oh, oh! C'è qualcuno alla radio! Tranquillo! La grange! Tranquillo! Bonjour, caro amico! Passo! Lo confonderemo con il vecchio linguaggio da camionisti. Lo manderemo in un'altra direzione per poi acciuffarlo sul ponte. Ah, ascolta, Coccodè! Non ti stai dirigendo al punto d'incontro! La tana dell'orso è vuota e la volpe è nel fosso! Passo! Ah, ah, oui, oui! È tutto chiaro! Di cosa sta parlando? Ma? Vai a sud verso il ponte! Lì mollerai il pennuto e prenderai la grossa somma di denaro per l'altra consegna! Ti manderemo le coordinate! Passo! Grossa somma di denaro? Oh, oh, oh! Con quella di sicuro potrò pagare ben due mesi di affitto! Oh, dieci, quattro mesi! E ora ritiriamo il premio! Va piano! Rischi di far del male al Quetzalcoatl! La grange non decelera per nessuno! Non sentirti in colpa! Stai comunque cercando di fare qualcosa! Non lo so! Forse è meglio se per oggi smetto di fare cose! Forse non puoi permettertelo! Oh no, il ponte! Se non interveniamo la grange fuggirà! Purtroppo la mia scocca non reggerà altri urti! Dovrai vedertela da solo, Ben! Da solo? Ma poco fa ho rischiato di incendiare una foresta! E prima la grange ha sconfitto XLR8 senza batter ciglio! Ben, sono il nonno! Ascoltami bene! Non lasciare che i tuoi fallimenti passati ti blocchino! Noi crediamo in te! E contiamo su di te! Davvero? D'accordo, nonno Max! Questa volta ce la farò! Ecco il Ben che conosco! Tranquillo! Ti guarderemo le spalle! Grazie, cugina! Tonto, c'è qualcuno in casa? Ben, prova a liberare il Quetzalcoatl! Vediamo quanta resistente la nuova arma c'è! Consegna questo, la grange! La prossima volta non finirà così! Parola di la grange! Oh, povero francesino triste! Oh, oh! Non, non sto attento! Ce l'abbiamo fatta? Per un attimo ce la siamo vista brutta! Ma tu non ti sei arreso! Quando fai la cosa giusta, alla fine ne esci sempre con una vittoria! Grazie, nonno! E io che pensavo che oggi fossi arrabbiato con me! Ah, la carretta è ancora intatta! Non posso certo lamentarmi! Ah, spero che Phil aggiusti anche quello!